All'altro, io ti copro e tu mi fai l'uscita, ricordi qua mi tengo posizione, voglio passare, cerdo, va ancora lavoro, dobbiamo cercare una variante per, prima vedi cosa fai, lavora, guarda così e poi ti tirano, questo primo che fanno, lavorano, lavorano così, da qui, bene, se non va, prendo qui, vado, vedi, qui ho obiettivo di essere un po' fuori, e adesso io devo, guarda, vedi un pochino, devo controllarti qui, controllarti qui, e questo braccia, e poi vado qui, invece tu adesso puoi uscire, e devo controllarti, poi adesso, questo come era, non era abbastanza, invece io potevo, sì, la prima, sì, non è comunica, ma non da ora, secondo toi oggi qui ti da robić, ouvori più lis... sì, non èulse Polyswhichi... tu non è lisco e una nuova... e quest'anno, non sono verano... non abbiamo che saltade proprio. All'impitto... se questo lui mi piaceva? mibbe già, mi piaceva, perdoni... Sì, sì, sì. Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Tu sei la aerolazione? No, ma... Non è? Non è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Abbiamo cominciato alle 15.00, sì? Sì, sarà. Dai le ultime 5-6 minuti. Cosa è? Sì, stupiamo. Prendiamo il cuore. Alta, 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 alta. Così sarà. E... Guarda da qui. Guarda da qui. Guarda quella che tu pare, in aia si perde. In realtà... Oh, questo. Questo fatto... Normalmente mi dò spiegare. Mi si spinga, se torni. Io vado. Si spinga, tu ti opoge tu gamba sinistra. Ehi, stupiamo. Sì, stupiamo. Sì, stupiamo. Sì. Sì, stupiamo. E di qua già, non ti dovrebbero... Alcine. 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 Controlti. No. Sì, stupiamo. Si va bene, si, 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 sì. Non mi trasformo anche questa cosa. Si. Eh? Ok, allora si fa. Prendo questa cosa. non è vero non è vero non è vero vado controllo riprendi ehi 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 vado 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 metorg vado 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 Sì Mi prendi con me gancho con gamba che rimane Gamba rimasco dentro Non, 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 non vai scrovarsi Non, 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 non vai scrovarsi A suone non mi parte Ah l skate andlo Sì, sono qui, pan, pan, inserite, vado, sì, aiuto anche con queste gambe, così, hop, hop, prima, 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 bravo, ora dobbiamo provare, dai, la nostra amica è, un punto a vedere, è così, èissimo, è così, è bene, 이거는, è in gioco, è inserito, è in gioco, è un gioco, è in gioco, è in gioco, è in gioco, ma il braccio deve essere molto più alla faccia si 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 prova prova a portare ah cazzo ho capito ancora adesso provo io magari qua molto molto variettivo anche un braccio caldo vedi mi ha fatto croc vado qui mi ti appoggi lo vado 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 vedi e tu vuoi tornare aspetta tu torni bene e io e io facciamo magari così dai vedi l'importante tenere con il collo allora 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 va attraverso qui tutti qui qui non non vi vi si va qui è importante è importante non permette non funziona non funziona io diciamo che ci sono tutti i piedi e prendo così adesso mio obiettivo è decidere da un'altra non permette di risolvere torna da me torna torna prima torna 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 piano no ma non sto volando dentro dolore è importante che non permette di che lui essere molto attaccato solo te questo è un errore per esempio molto bene non 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 rimanere qui rimane la metti un po' laterale laterale proprio sinistra gamba sinistra distesa no mamico metti sotto di te questo si chiamo attirare a lungo ora così vedi io si io vado qui e tu prova a controllare controllare non 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 per non permette che io per l'espa non 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 che 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 paga che e poi se poi bene, stai provo vedi, tutti altri e poi la nostra e poi la nostra e poi la nostra e poi la nostra ciao